Buongiorno, rassegna stampa di oggi, giovedì 6 ottobre. Vediamo quali sono le notizie principali. Quella fondamentale è il ricorso fatto al Tar, da parte del Movimento 5 Stelle e dei movimenti di sinistra nei confronti del quesito referendario. Il tema è molto semplice, il quesito referendario conterrebbe una semplificazione eccessiva rispetto ai 47 articoli della Costituzione che vengono cambiati. Ve la faccio ancora più semplice. Nel quesito si dice volete ridurre i costi della politica? Tutti dicono sì, però sostengono quelli che hanno fatto il ricorso al Tar che la cosa è molto più complessa perché intanto quei riduzioni dei costi della politica non sarebbero così alti e poi dovrebbe essere fatto riferimento a tutti gli articoli del codice che si cambiano, della Costituzione che si cambiano. La questione è abbastanza noiosetta e non ve la sto a raccontare nel dettaglio. Quello che è certo è che oggi mi sembra che un giornale sente un costituzionalista, anzi no, un membro della Corte di Cassazione che ha approvato il quesito e ha detto che non c'è poco da fare, il titolo della legge è questo, quindi l'abrogazione del titolo della legge è la procedura che noi abbiamo addettato anche in altre vicende. La cosa più divertente sul referendum è un'altra oggi e cioè che Benigni dice che bisogna votare sì e che se non si vota sì è peggio della Brexit. Improvvisamente Gramellini dice ma perché diamo tutto questo peso ai comici? è stupendo l'idea che quando non ci fanno comodo i comici gli diamo tanto peso. Detto questo io ho sempre pensato che non si debba dare peso ai comici né quando dicevano che era la Costituzione più bella del mondo, non me la faccio spiegare da Benigni la Costituzione più bella del mondo, né quando dicono che diventa un Brexit votare no alla riforma costituzionale di Renzi. A prenderlo più per i fondelli oggi è un fondo di travaglio che dice di tutto su Benigni e sul fatto che lui ha deciso di votare sì. Devo dire che su Benigni è venuta una cosa incredibile, cioè il fatto che il suo cambiamento è stato pagato da una rettifica che lui ha fatto a una serie di trasmissioni sulla Costituzione più bella del mondo pagata dalla RAI. Devo dire che però il tema della Costituzione e della parte delle questioni giudiziarie sul tar, contro tar, insomma che lasciamo perdere, da parte la Costituzione più divertente è quella del Financial Times che fino a pochi giorni fa ci spiegava che se non passava la riforma costituzionale voluta da Renzi in Italia sarebbe successo un casino. In realtà ieri invece il Financial Times ha scritto che non sarebbe successo un casino, non succede niente se non passa la riforma di Renzi e in tarda serata è venuta una nota del Financial Times che dice che non è vero insomma che ci sarebbe qualche problema se non passasse la riforma costituzionale. Lo stesso Financial Times, e questo lo scrive Alessandro Sallusti, essendo in parte proprietà della famiglia Elkan, dice Sallusti, io su questo complottismo non sono così convinto, penso ancora che i giornalisti abbiano, ma non lo so, spero che abbiano un filo di autonomia in più su queste scelte strategiche, ma comunque dice Sallusti che è strano questo balletto del Financial Times, così come quello di Berigni. Devo dire che quello del Financial Times è davvero un balletto indecoroso per quello che noi consideriamo sempre il grande autorevole giornale. Prendiamo per quello che è, un giornale che fa parte di una lobby, una lobby che è quella della finanza inglese, legittima, che ha le sue tesi e che quando noi le leggiamo a Roma, Milano, Brescia, ad Andria, pensiamo che siano i grandi tesi del Financial Times. No, possono anche essere simili a quelle della Gazzetta del Mezzogiorno. In questo caso forse la Gazzetta del Mezzogiorno ha una posizione un po' più univoca, così come, non so, la Gazzetta di Parma, che io leggo con attenzione anche perché ieri mi ha dedicato una bella pagina per la disuguaglianza fa bene, uno dei pochi giornali locali che ha scritto della disuguaglianza fa bene, che è il mio libro, di cui continuerò a parlare, non vi pensate che vi sia dimenticato del mio libro. Quindi il pezzo oggi più interessante è quello forse di Antonio Polito, che è sempre molto lucido, il suo fondo sul Corriere della Sera dice, ma insomma questa questione del referendum in realtà è un po' paradossale, perché si dice che se non dovesse passare il referendum militare ci sarebbe instabilità. Quello che mi sembra, dice Antonio Polito, è che ora in attesa del referendum c'è la totale instabilità, cioè i governi servono per governare negli ultimi mesi, grazie a questo referendum non è passata più una legge alla Camera né una legge al Senato, cioè non si sta governando l'Italia perché l'unica cosa di cui ci si occupa in Italia è il referendum, il governo sta pensando soltanto a questo. Allora io penso davvero che il pezzo di Polito oggi sia illuminante. Tra l'altro nelle ultime tre righe del fondo che parte a pagina 1 e conclude a pagina 31, Polito dice questo è l'unico governo che è riuscito a farsi approvare o a cambiare la stessa legge elettorale due volte senza averla mai utilizzata. Beh, devo dire che è veramente aria a pieni polmoni quando leggi oggi Polito che in maniera elegante non pregiudizievole dice che questo governo un po' ci fa ridere su questo, cioè cerchiamo di non esacerbare gli animi, però insomma cerchiamo anche di dire che questa legge elettorale fatta dal governo, posta la fiducia, salvifica e poi adesso ritorna, visto che c'è il referendum in corso e ancora sul banco degli imputati e il governo è disponibile a cambiarla prima ancora di averla utilizzata, beh insomma se questa non vi sembra una cosa incredibile, boh beati voi, niente è incredibile come Sandro Bondi, oggi se ne accorge Italia, oggi giornale che leggo sempre con attenzione perché Pierluigi Magnaschi ci regala sempre qualche chicca, beh Sandro Bondi ieri in una lettera al foglio che mi era sfuggita dice che sul referendum il cavaliere non crede a nulla, Silvio Berlusconi dice Bondi non crede a nulla, tutto risponde ai tuoi interessi contingenti, dice Italia oggi a Bondi ma per vent'anni hai fatto il cameriere di Berlusconi, se Berlusconi non credesse in nulla e non rispondesse se non i suoi interessi non te ne potevi accorgere un po' prima dei vent'anni, prima di harti fatto a te, alla tua fidanzata parlamentare di Forza Italia, prima che tu sei andato a vivere a Arcole vicino a casa sua, a me questi che sono stati prima i servi sciocchi e poi dopo sparano a zero sulla persona che hanno servito per vent'anni, a me fanno un po' ridere, zitti, zitti, avete bisogno di risi che Berlusconi non vi piace più? Io posso anche capirlo che dopo vent'anni si possa assistere a un grande divorzio, ma zitti, andatevene via, scomparite, dimettetevi dal Parlamento e andate a fare la vostra vita come sempre. Io trovo bello, bravo, Italia oggi che lo ricorda. Altra cosa incredibile è la storia di Zingaretti. Zingaretti, presidente della regione Lazio, oggi scopriamo dai giornali che è stato indagato per mafia capitale e che la procura ha chiesto l'archiviazione di Zingaretti. Tutto bene dunque? No, non è tutto bene, perché Zingaretti è sicuramente, gli è stata richiesta l'archiviazione, quindi fuori dall'inchiesta, ma vi sembra che l'unico imputato che non è finito sui giornali è il presidente della regione Lazio? Tutti gli altri appena erano indagati sono stati sputtanati da tutti i giornali, tranne uno Zingaretti che l'hanno indagato, poi hanno visto il modo di archiviarlo e poi lo archiveranno. Mi chiedo perché il segreto vale soltanto per Zingaretti, presidente della regione Lazio e non è valsa per tanti altri imputati che fino a prova contraria potrebbero essere archiviati o potrebbero esserci, ci sono state già delle richieste di archiviazioni sputtanati tutti, tranne Zingaretti che è stato tenuto non in considerazione eccezionale, ma nella considerazione in cui la legge vorrebbe che si tenessero gli indagati con poche fughe di notizie. Per Zingaretti questo è valso per tutti gli altri, vale anche per la questione della Raggi, nella questione della Raggi tutti quanti indagati, tutti, scusatemi, tutti indagati e tutti nelle situazioni peggiori, invece per quanto riguarda Zingaretti tutela totale. Ultima due cosette, Caprotti, la dinastia di Caprotti va a finire alla seconda moglie e alla figlia della seconda moglie, ma la cosa più bella secondo me, oltre al fatto che i figli di primo letto hanno una quota della società, perché non si può fare a me in Italia non si può desideredare, però hanno una quota minoritaria, ma la cosa bellissima è che Caprotti è molto molto generoso perché il 50% dei suoi titoli e sue disponibilità a cash le dà alla sua segretaria e ai nipoti. Ci sarebbe da parlare a lungo di Gran Bretagna in cui la May, come ha sintetizzato bene un giornalista dell'Economist, dice due cose, dice la May che si sposta un po' a sinistra in economia, quindi lotta alle grandi multinazionali e un po' più a destra sulla società e dunque prima il lavoro agli inglesi e poi agli stranieri. Già sentita questa cosa anche nel canton Ticino, voglio dire che tutti si spostano un po' a destra qua in società, bisogna stare attenti perché non so se questo è il mondo liberale che ci auspichiamo. Infine, ultima chicca, l'intervista amministratore delegato dell'Italia, che non è più italiana, che chiede tutela perché dice una compagnia, non esiste grandi compagnie nazionali che non abbiano una tutela dello Stato. Partendo dal presupposto che è stata privatizzata, che non è più una compagnia nazionale, mi viene da ridere che chiede una tutela di Stato, uno che ha comprato e privatizzato una compagnia di Stato che non è più di Stato, no, è una società di mercato, però lui dice una cosa molto semplice, a Fiumicino ci sono sei società low cost che ci fanno un mazzo così, a Heathrow e Charles de Gaulle, Air France e British Airways non hanno low cost che gli insidiano il mercato. Non so se questo sia vero, mi diverte molto che il manager multinazionale poi alla fine allo Stato dice dateci una mano, forse sul mercato del turismo la presenza dello Stato deve essere un po' diverso. Direi che per oggi è tutto, noi ci vediamo, vediamo l'unitempio della pagina della rovina dell'Inghilterra, vabbè insomma ci sono tante altre cose, comunque l'Inghilterra è uno dei grandi temi che ci sono oggi sui giornali e noi direi che EasyJet opera tranquillamente da Charles de Gaulle, eccolo qua, Luca, EasyJet opera tranquillamente da Charles de Gaulle, anche a me sembrava di essere arrivato a Charles de Gaulle con EasyJet, però me lo conferma qualcuno, adesso la mettiamo sotto osservazione in fact checking, vedete che bravi che siete, perché l'amministratore delegato all'Italia dice che non ci sono low cost, anche se EasyJet, non so se possa essere definita proprio low costo, lo è però, diciamo è, non è Ryanair, non è Wailing, però comunque come giudichi l'uomo benigni, come vuoi che lo giudichi Vittorio, ho detto quello che pensavo, vi saluto a tutti quanti, vi do appuntamento a domani con la solita zuppa di porro e forse qualche cosa anche oggi pomeriggio se facciamo un trailer per il libro, ciao!